Buonasera amici, sto ritirando le pizza da sporto per il cuoco, la col e la famiglia Com'è in chiusura d'estate? Io niente pizza, siamo da salvo, pizzina napoletana qui ad Ardea Cerco di non farmi vedere perché sono figure di merda Bip Guardate gli aspettati Dicevamo Ciao Che imbarazzo Sembra che devo andare a un funerale, invece no Stasera pizzacchetto No, pizzacchetto no, assolutamente Ragazzi non lo sopporto più, sono appena arrivato, già me ne voglio andare anche la colla Facci vedere le unghie colla Data una Dicevamo Cosa fa con quelle mani, cosa fa con quelle mani Cosa fa con quelle mani La classica pizza napoletana Stasera abbiamo voluto le saggio Mi è toccato allisciare anche il cuoco perché ragazzi è andato da salvo Ad Ardea Salvo da qui Sbollentata e la cucinata C'è mappi la colla Vediamo Vediamo com'è Com'è Guardi le rubo Proprio se ci tiene Le rubo un pezzettino Ho fatto aggiungere anche Buona buona Complimenti Addirittura vogliamo lacrimare per la pizza Giuseppe buona Io direi che Allora adesso vi salutiamo Poi c'è anche una specie di dolcetto che si è tutto sfracagnato Vi salutiamo intanto e vi diciamo che A dopo Miau 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 Giuseppe Miau 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 E tutti? I gatti miau Buon appetito Ciao